buongiorno a tutti in questo video come potete intuire dalla schermata che sto facendo visualizzare in questo momento parleremo di sistemi di riferimento in particolare sistemi di riferimento da utilizzare con le misure gps o gnss che dir si voglia è nel proprio per entrare nello specifico questo video mi concentrerò sui sistemi di riferimento locali per poi magari su altri video ampliare la questione parlando anche di sistemi di riferimento globali utm il discorso della quota e altri aspetti interessanti non si tratterà di un video esclusivo sull'utilizzo video tutorial sull'utilizzo di topos anche se evidentemente farò vedere anche come questi sistemi si applicano su topos ma vorrà essere una tra virgolette chiacchierata su questo argomento motivo per cui a differenza di altri video nei quali non comparivo direttamente su questo video ho deciso appunto di far comparire direttamente la mia persona perché ritengo tra virgolette buona educazione farsi vedere in faccia quando si parla quando ci si rivolge ad un'altra persona anche se in questo caso stiamo parlando di un video in via remota però il concetto è sempre lo stesso ma tralasciamo un po le chiacchiere andiamo direttamente sull'argomento del video il gps come sappiamo l'antenna ci restituisce una posizione una posizione sotto forma di coordinate geografiche nella fattispecie latitudine longitudine quota lisoidica sulla definizione non sto insomma adesso a entrare nel dettaglio vi rimando qua alla pagina di wikipedia limite a limite poi sui qua in basso sulle descrizioni metterò il link diretto però insomma non è questo l'argomento quindi dicevamo il gps ci restituisce l'altitudine e longitudine quota lisoidica riferite ad un particolare sistema di riferimento ovvero un sistema di riferimento costituito da un elissoide di rotazione coincidente con il centro di massa della della terra e che interpola nel migliore dei modi possibili in tutti i punti della terra la superficie reale del terreno il geoide questo in linea in linea generale poi nel dettaglio magari entreremo su altri video latitudine e longitudine quota lisoidica vanno benissimo per definire una posizione sull'elissoide però sono poche adatte al topografo e al cartografo in genere il quale ha lo scopo vorrebbe rappresentare su una carta o meglio visto che siamo nel 2019 su un ambiente su un software cad su una su supporto informatico vorrebbe descrivere il territorio latitudine e longitudine non sono adatte per questo scopo abbiamo dobbiamo per forza trasformare queste coordinate in delle coordinate cartesiane ortogonali che si adattano meglio allo strumento ovvero la cartografia digitale i cad e così via per passare appunto da latitudine e longitudine quota lisoidica a coordinate cartesiane trattabili come abbiamo detto bisogna fare una trasformazione un passaggio generalmente questo calcolo si chiama proiezione ce ne sono di tantissimi tipi nel caso di questo video vorrei concentrarmi focalizzarmi sui sistemi locali che per quanto concerne la topografia sono i più adatti e vi spiegherò poi più avanti anche il perché il sistema locale più 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 semplice e più intuitivo è quello eriano ovvero quello che considera la superficie dell'elissoide come fosse un piano meglio approssima la superficie dell'elissoide con un piano evidentemente questo è possibile in un limitato porzione di territorio in corrispondenza del punto di tangenza nel caso di specie nel la l'elissoide può essere considerata ad un piano su un intorno di circa 5 chilometri dal punto di tangenza nella figura che vediamo il punto p0 rappresenta l'origine del sistema alleriano ovvero il punto di tangenza del piano attorno con un raggio di 5 chilometri dal punto p0 possiamo approssimare l'elissoide ad un piano e quindi trattare le misure in questo modo quindi abbiamo diciamo un discreto margine di lunghezza per poter restituire i nostri rilievi inconsciamente questo sistema di riferimento è quello che abbiamo sempre utilizzato anche prima dell'utilizzo delle misure gps ovvero quando si fanno rilievi con la stazione totale e poi queste misure vengono riportate direttamente sul cad eccetera non facciamo altro che utilizzare un sistema di questo tipo ovvero nel considerare la terra come fosse piatta questo è un sistema che abbiamo sempre utilizzato con la stazione totale da cosa ne deriva da questo ne deriva che questo sistema locale è il sistema migliore per riuscire a mettere assieme misure provenienti da metodologie diverse ovvero le classici rilievi misti il sistema migliore per mettere assieme rilievo celerimetrico con rilievo gps è appunto il sistema locale un sistema loeriano nel quale le misure possono essere diciamo le misure rilevate con gps corrispondono esattamente con le misure rilevate sul loco non ci sono moduli di deformazione non c'è nulla si può misurare direttamente sul posto quello che viene poi anche calcolato il discorso della dell'area di validità del sistema oleriano ovvero i cinque chilometri di cui ho detto prima merita però una precisazione ovvero l'approssimazione l'arco di elissoide può essere confuso può essere considerato una retta per quanto concerne i fini topografici e cartografici fino a distanza di 5 chilometri solamente per quanto concerne le coordinate x y per quanto concerne la quota l'errore degenera molto prima ovvero se dovessimo considerare il sistema euleriano puro ovvero questo qua che vediamo video ovvero con le quote calcolate rispetto al piano tangente allora l'approssimazione o meglio la validità il campo di validità non sarebbe più 5 chilometri ma questo si restringerebbe a circa un chilometro perché per quanto concerne la quota già dopo un chilometro gli errori cominciano ad essere importanti perché ho detto tranquillamente che può essere il rilievo il questo sistema di riferimento può essere utilizzato fino a 5 chilometri perché generalmente si utilizza un sistema travolente misto ovvero il sistema euleriano classico puro per quanto concerne le coordinate x y mentre per quanto concerne la quota si considera la sfera locale che in all'interno di 5 chilometri praticamente la superficie coincide con quella dell'elissoide in questo modo in questo modo si riesce attraverrete a bypassare il problema della degenerazione del dato altimetrico dopo un chilometro e tranquillamente utilizzarlo nel tutto il campo di validità appunto del sistema euleriano famosi 5 chilometri se facciamo un salto veloce su topos qua abbiamo la schermata del programma nella quale nella scheda gps panimetria si definisce il sistema di riferimento nei sistemi di riferimento locale il primo punto del sistema euleriano qua vediamo che tra le possibilità offerte dal programma c'è le quote riferite o a sfera locale come vi ho spiegato o a piano tangente le quote riferite a piano tangente è il sistema euleriano proprio puro mentre le quote riferite a sfera locale è il sistema euleriano tra i volete misto che vi ho appena parlato che vi consentono di utilizzare il dato planimetrico e altimetrico con tranquillità all'interno dei 5 chilometri questo perché come ripeto la superficie del per quanto accenna la quota si fa riferimento alla superficie della sfera locale qual è l'altro vantaggio della dell'utilizzare la sfera locale appunto e il vantaggio è che siccome la sfera locale delle isoide coincidono di fatto le quote che vado ad utilizzare nel sistema euleriano corrispondono con le quote elissoidiche quindi già lavorando con le quote elissoidiche e avendo la possibilità come c'è qua su topos di mantenere disgiunto il dato panimetrico dal dato altimetrico posso applicare i modelli di ondulazione delle geoide anche sui sistemi locali in questo caso potrei utilizzare benissimo un sistema appunto planimetrico euleriano quindi x y z e per quanto accenna l'altimetria utilizzare che ne so un grigliato utilizzare un lgm utilizzare un valore di ondulazione in modo da sì sistema locale però con quote ortometriche con quote sul livello del mare per cui diciamo l'utilizzo della della sfera locale per quanto concerne le quote ha il doppio vantaggio di riuscire ad andare fino al limite di 5 km ma anche il vantaggio di poter utilizzare modelli di ondulazione del geoide per quanto concerne la trattazione del dato altimetrico visto visto che ci sono profitto per ricordare che su topos l'origine del sistema locale si stabilisce andando a individuare un punto tra quelli rilevati con gps è una volta individuato qua sulla lista premere il pulsante imposta vrs l'acronimo vrs sta per virtual reference station in modo che poi il programma in fase di elaborazione considera appunto in questo caso a video il punto origge l'ho chiamato vabbè come appunto origine del sistema di riferimento quindi dopo l'elaborazione il punto origge avrà coordinate 0 0 0 quindi l'origine del sistema di riferimento appunto concludiamo la trattazione del sistema loriano lasciando un paio di input fissi ovvero è un sistema che andrebbe utilizzato su rilievi di natura infrastrutturale e soprattutto su rilievi nel quale devo mettere assieme dati provenienti da metodologie diverse ovvero il classico rilievo misto celerimetrico più gps evidentemente all'interno dei limiti di validità di cui vi ho parlato prima concludiamo il sistema loriano e passiamo ad un altro sistema di riferimento locale altro sistema di riferimento da poter utilizzare con le misure gps cosiddetto sistema geotetico rettangolare nel quale come qua vediamo video l'origine nostro sistema è un punto sull'elisoide l'asse x corrisponde a un arco di meridiano l'asse y corrisponde a un arco di geotetica che forma un angolo di 90 gradi con l'arco di meridiano quindi non un parallelo mi raccomando su topos questo sistema si imposta sempre da gps planimetria coordinate locali sistema locale all'eriano con origine su punto vrs come abbiamo visto prima non sto ripeterlo e per quanto concerne le distanze queste possono essere riferite sia la quota o sia nell'elisoide sia le distanze in quota però su questa opzione delle distanze della quota farò un video specifico perché è un esempio interessante da farvi vedere si tratta sostanzialmente della quota media che pregeo ci chiede quando inseriamo il nostro libretto catastale la quota media fa riferimento a questa opzione ma ripeto la vedremo nel dettaglio su un video a parte quindi tornando a noi quindi un altro sistema utile per le trattare per trasformare misure gps appunto questo sistema qua geotetico rettangolare la validità del sistema è attorno ad un angolo una distanza di circa 50 60 chilometri dall'origine non è molto utilizzato pochissimo utilizzato per quanto c'è nel gps però ve ne ho parlato perché il sistema cassini soldi era utilizzato dal catastro italiano che qua in italia famosissimo che tutti conosciamo altro non è che un sistema geotetico rettangolare un sistema geotetico rettangolare nel quale le formule di proiezione sono tali che minimizzano le deformazioni sia lineari sia angolari la trasformazione affidattica insomma nessuno sarà nel dettaglio quindi il sistema cassini soldi non è altro che un sistema geotetico rettangolare ve ne ho parlato per questo motivo qua visto visto che l'ho tirato in ballo l'ho parlato del sistema cassini soldi non vorrei concludere questo video con due parole appunto sulla possibilità di trasformare direttamente le misure gps su coordinate cassini soldi allora onde evitare qualsiasi dubbio qualsiasi speculazione attualmente maggio 2019 è impossibile fare una trasformazione diretta da coordinate vgs 84 a coordinate cassini soldi in maniera precisa rigorosa è un po per così dire il sacro graal della topografia italiana questo ma non è ancora stato trovato al momento magari domani qualcuno si inventerà delle formule particolari o dei grigliati particolari che consentono questo tipo di trasformazione ma adesso non è possibile su molti software che descrivono questa possibilità in realtà questa possibilità è possibile in forma approssimata su topos se andiamo a vedere qua sempre su gps planimetria io ho inserito trasformazione approssimata al sistema cassini soldi tanti parlo di sistema cassini soldi ma in realtà ripeto non è impossibile trasformare direttamente misure gps misure cassini soldi con le precisioni in maniera rigorosa con precisioni centimetriche infatti se ciò fosse possibile pregeo ci avrebbe liberato dall'utilizzo dei pf utilizzando gps di fatto però anche col gps è ancora indispensabile utilizzare i punti fiduciali perché questo è indispensabile perché ripeto la trasformazione diretta rigorosa da gps a cassini soldi non è possibile è possibile in maniera approssimata su topos ho inserito questa possibilità quindi per poter utilizzare la trasformazione approssimata a cassini basta attivare questa quarta opzione tra i sistemi locali e poi andare sulla lista cassini soldi e selezionare l'origine del nostro sistema della nostra zona della nostra mappa catastale adesso non strontare nel dettaglio ma le mappe catastali in italia hanno diverse origini alcune sono queste altre origini sono andate con gli anni perse ci sono anche delle sotto origini locali di cui non si conosce più motivo per cui la poca affidabilità di queste origini è la mancanza di affidabilità rispetto ad altre origini locali o sotto origini fa sì che la trasformazione diretta sia di fatto impossibile allora perché dice ha inserito ha inserito questo tipo di calcolo se di fatto non è possibile allora dalle varie prove che ho fatto ho notato che è possibile trasformare direttamente le coordinate gps in quante cassini soldi la precisione massima che ho ottenuto siamo attorno ai 50 60 centimetri dipende poi dalla zona dall'origine da tanti fattori per cui se nei casi in cui io abbia la necessità di fare una sovrapposizione di massima del mio rilievo gps con una mappa catastale senza essere costretto a rilevare ipf ok posso benissimo utilizzare una trasformazione approssimata a cassini che qua vediamo messa come opzione però ripeto l'unico scopo in cui posso utilizzare questo sistema locale quello appunto di una sovrapposizione approssimata tra rilievo e mappa non certamente per atti di aggiornamento catastale senza l'utilizzo di ipf perché ripeto questo non è possibile detto ciò io concluderei qua la trattazione dei sistemi locali fermo restando che ho intenzione di pubblicare altri video per quanto concerne appunto dicevo il dato altimetrico sistemi utm e così via per cui se il video vi è piaciuto un like qua sotto è sempre ben accetto e per rimanere aggiornati sui video che periodicamente pubblico un'iscrizione al canale top post tv fa sì che verrete sempre aggiornati sui sui video che pubblico ciao a tutti